Grazie infinite, non saprò mai come sdebitarmi Eren, grazie che mi hai salvato la vita davvero, ora ti chiedo solo una cosa, hai un medico, ti prego Oh mio dio, devo pensare a tutto io qua? Sì, ti prego dammi un medico Sì, guarda mi stavo giusto curando, aspetta che finisco Ah tranquillo eh, sono solamente mezzo cuore, vabbè E a me ne manca uno, ok però è mio quindi la priorità va a me Va bene, allora intanto pensa mentre mi curo, mentre cerco di curare le mie ferite, pensa un attimo a come scendere da qua Ci ho già pensato, e sai che cosa ho pensato? Siamo fottuti Ci buttiamo, ti prego buttiamoci, non voglio più No, siamo fottuti perché abbiamo rotto l'unica scala buona Ah, quindi Dobbiamo, forse l'ascensore non si poteva perché c'erano le scale interrotte, ti ricordo Però guarda questa cosa qua Sembra uno di quei balconcini da manutentore E quello degli ascensori Eh, dai magari c'è un mocio o una scopa qua dentro Dice che... e invece? Eh, c'è un secchio d'acqua Invece abbiamo trovato? Sì, non il secchio d'acqua Abbiamo trovato Sì, stavo scherzando, c'è una fune, lo so Scusa, non capisco l'ironia Allora Ok, con questa si appendono per lavare i vetri, magari la possiamo usare per uscire esternamente Ok, facciamo così Allora, tu cerca qualcosa sul lato destro Un punto dove appigliarsi Io cerco qualcosa sul lato sinistro Possibilmente magari non una finestra di quelle stanze dove ci sono i dormienti Sì, hai ragione Hai visto cos'è, Eren? Che? Cosa? Eren, chi è? Eren, mi sta prendendo Oh, lascialo! Lascialo! Eren, spara lì! Lascialo! Che cazzo è successo? Locke? 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 Ciao Ma potevi parlare? No, avevo paura che ci fosse ancora qualcosa lì No, hai volato via Non so, era un pipistrello, è arrivato, ha fatto casino e se n'è andato Allora ho visto bene, si è andato via un pipistrello Sì Allora, senti, sono vivo per miracolo Facciamo così, ci troviamo al piano di sotto Entro da queste finestre qua Mamma mia Ok Sì, sì, guarda, non ne voglio più sapere di uscire Ok Va bene Io cerco di calarmi, allora ci troviamo lì Allora, se Sei tu? Scusa Sì Ah, ti ho mancato per poco Mi sto facendo spazio tra i vetri Salve, sono qua Il tuo Spider-Man di quartiere Sì, basta che non facciamo il bacio all'incontrare No, 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 guarda, me ne vado subito Allora, hai trovato un buon appiglio Provo a seguire Ok, aspetta che però mi dovrei Non incastriamoci coi fili, eh Mi raccomando Sì, sì, no, no, no Ok, cerchiamo di scendere Vediamo se in fondo Ha questa tromba dell'ascensore Ti lascio andare perché Non incastriamoci coi fili E poi mi superi Scusa Dannazione Sono curioso di vedere cosa c'è in fondo Io sono curioso di uscire Perché altro Ok, siamo arrivati Ti faccio un po' di spazio Sì, grazie Mi è finita proprio la fune qua Ok A questo punto Usa le scale un attimo Ok, perfetto Aggrappati di nuovo Non mi si aggrappa Non mi si aggrappa Ok, aspetta Mi fermo qui le scale e ti lascio andare Ok, grazie Ok Mi sarò possibilmente ai tuoi piedi Ok Ok, ci sono Qua Vedo un cartello dell'uscita qua, eh Va bene, arrivo subito Non mollare il rampino No, 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 non ci penso nemmeno Non mi sembra mai che sta stanza sia piena No, anche perché guarda cosa c'è lì sotto Provo a dondolarmi un po', eh Ci sono delle trappole Vai Chi ha messo delle trappole in fondo? Ma non lo so, non lo so Vedi sta uscita Se possiamo passare Ok Provo a vedere cosa c'è qua Sembra che non ci sia più Una cosa come quattro piani interi È abbastanza buio Vediamo sul visore? Sì Sì, io prendo la torcia, va Aaron Dai Dimmi Immobile Abbiamo Cos'è? Zitto, 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 zitto Ma è enorme È tipo bloccato da delle catene Allora Ok, io sono rimasto appeso Io me ne vado subito Anch'io Leviamoci di qua Provo a mettere qualche C4 Tanto quello anche se si sveglia Vabbè, giusto Cosa c'è di più Di meno rumoroso D'altronde Esatto Tanto dobbiamo scappare Vai, vai, vai Coprisi 3 2 1 Si è aperto? Perfetto, sì, si è aperto Ok, scendiamo Scendi Dondolati Ok, vabbè Allora se mi dividere le cose tue Te le dico anch'io Ti sai? Ok Ok, sono fuori Ti l'ho fatto anche tu? Sì Perfetto Siamo armati subito Ricarica tutto prima di uscire Ho dovuto sparare qualche colpo A quell'affare prima Però Ho l'M4 pieno Quindi siamo a posto Hai fatto bene Hai fatto bene Senti, io non voglio rischiare Sono totalmente d'accordo con te Allora Qui C'è un palazzo Possiamo provare a vedere lì Se troviamo delle risposte Non so orientarmi Dovremmo andare nel punto Più vicino Beh, sono passati 200 anni Direi che Sono cambiato un po' di cose Non si riconosce niente qua attorno Eh, seguiamo la strada Ok Ok, proviamo ad andare qui E vediamo dove ci porta Sì, magari Questo palazzo Non lo riconosco assolutamente Anche perché È tutto scassato È trovato sotto un altro palazzo Esatto Beh, la strada è un po' interrotta qui però Sì, attento che Potrebbero essere ovunque Questi zombie qua Ho il fucile in mano Tranquillo Sempre che non becchiamo Un altro di quelli Di quei pipistrelli Che poi ti ha sparato Un raggio traente Qualcosa Sì, era tipo Un raggio Che Che mi ha trascinato E era come se mi comandava Tu non puoi capire quello che ho provato Cioè non potevo muovere niente Ho notato Potevo solo parlare Sì, in effetti Era completamente inerme Gli ho dovuto sparare Ma non so cosa stavo pensando Insomma Ti ha buttato di sotto Quindi Ok, forse Ho capito dove siamo Guarda dietro di te Sì, c'è un Ok No, questo non l'avevo visto Un aeroplano schiantato Quindi Non è molto promettente Possiamo andare a vedere Che cosa c'è Ma prima Dato che abbiamo capito dove siamo Dato che Tu la vedi la statua No, non riesco a vederla È coperta dagli alberi Mi so Ok Allora siamo vicino alla statua Eren, vini qui Ok Stavo per caderci dentro Stavo per cadere letteralmente dentro Cos'è? Una metropolitana? No, penso siano le fognature Ok, guarda Io non voglio prendere danno Però è un po' schifo come se La merda di 200 anni Penso sia Già seccata Ma Va bene Ok Qua Qua penso che ci sia passato Qualcuno dei nostri Sì Ci sono un sacco di rifornimenti Hanno messo il filo spinato Beh Direi di Di svaliggiare tutto E allora prendiamo Ok Prendi da mangiare Ovviamente Cure soprattutto Perché Oh questo fucile a pompa Nice Ah buono E i colpi te li prendo io E vabbè Scusa Con cosa rispari Fammi capire Ne troverai altri Dai Guarda qua c'è Vabbè Qua c'è un caricatore pieno Anche volendo Anche qua Queste li prendo tutti io Qua Un'altra Di queste Diamine di torcerotte Cioè provo a cambiarla Che magari Questa è buggata Colpi del P90 Ci sono anche Delle barrette energetiche E se trovi un medikit Ecco Non so Potresti ridarmelo Un cerotto Vuoi una benda Per caso Possibilmente No No C'è una benda Vabbè No no La benda no No la benda no Ho trovato un medikit E questo me lo tengo Decisamente Perfetto Eren Sì Ho trovato una cosa Che ci può essere utile Ok Dimmi Ti prego Che tu hai delle flare Io Non ho delle flare I munizioni per Per i razzi segnalatori Io non ho munizioni Per i razzi segnalatori No Speriamo che dopo Li troviamo Però se vuoi ci sono Delle benda Vabbè niente No Hanno una forma Strana Senti Hai trovato per caso Dei caricatori neri Piccolini Si chiamano EC qualcosa Sì Sono qua Ok Se ti serve qualcosa Dimmelo Sono in queste ceste qui Io sono pieno di Munizioni che non mi servono Te lo ripeto l'ultima volta Hai delle cure? Sì Ho trovato due medikit Tieni ne uno Oh grazie mille Mamma mia Questo volevo sentire Mamma mia Grazie Secondo me tu ce l'avevi già E non me lo volevi dire No li ho trovati ora Comunque qua Io lascio un po' di munizioni Che non mi servono Così Se ti fanno comodo Ah ecco Il tuo caro C4 Io non ne voglio più sapere niente Di sta roba Te lo lascio qui Avremo dei bruttissimi incubi Sul C4 Terribili Questa esperienza Quella è il grattacielo Senti per risalire L'unico modo è così Dato che non c'è neanche una scala Perfatto Io direi che ho preso tutto Quindi Ora spero Vivamente Di non trovare Nessuno Perché mi sono appena curato E mi darebbe Un gran fastidio Anche solamente Avere una bruciatura Sul ginocchio Va bene Perché ce la devi tirare così Eh me la gufo Sono così Il palazzo rosso È l'ospedale Sì Dobbiamo andare lì Lo sto guardando Erende dove arriva Lo senti No È dietro Occhio Occhio Eric ce n'è uno dietro di te Ma quanti sono Ho finito le comunizioni Coppi di un attimo Vai 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 Ricarica Ok Dicevi l'ospedale Sì Muoviamoci Sì no tranquillo Sì 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 L'ospedale Edificio rosso Devo andare a prendere una cosa Sì sì lo sto guardando anch'io Ok Sì devi riprendere l'ospedale Le morfine La Tloc Ho fuori Ok Sì Mi sa che Facciamo che corriamo Aiuto Sì sì È un attimo Però se mi colpiscono Le spalle Non prendermi Che mi è arrivato Un colpo di fianco Sì ma sono anche loro Sono tantissimi No Sono troppi Ma dove si stanno spuntando Non lo so Non so Ma ce ne sono un botto Non sprecchiamo più colpi Aspetta ho un'idea geniale Ho un'idea geniale Segui Una granata No Guarda Ok Ah Sono una torretta automatico Ora È stata un'idea bellissima Non so Far a fare Tutti sotto Sono tutti sotto Ecco Calma Non ci possono toccare qua Eh sì Tutte le munizioni Che avevamo appena trovata Non solamente sperare Che non arrivino I vampiri lì Vampiri Quanti sono? Da dove escono? Non lo so Ah c'è un buco lì Sotto il fondo Sì Dobbiamo andarci Lo spero bene Ok Sono finiti Ce n'è ancora uno Ma io lo terrei così Eh no Questo No no Tiniamolo Tiniamolo No No è mio amico Gianni Gianni Ok mi sono fatto malissimo Con questo rampino Scappa Scappiamo Scappa Ok stanno seguendo te Guarda che sei rampinato per terra Ti copro Vattene Non so Ma se ti rampino Possiamo scappare All'ospedale Ti prego Ti copro io Non li faccio fuori Tu Sei più pericoloso tu che loro Io ti avevo dato un medikit No? Grazie No 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 Che succede ancora? Sono finiti? Sono finiti Non lo so Mi sto curando Un attimo No non sono finiti C'è ancora lui C'è ancora quello che la faccia da teschio Ehm Entriamo dentro Ok 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 Ti chiamano ancora dentro Allora io non ho ancora capito Scemi che dovevamo anche venirmi qua Se è una vera schifosa Ma non lo so Non lo so Non lo so Non lo so Cos'è che devi fare qua all'ospedale In tutto ciò? Devo cercare una cosa Devo vedere se c'è ancora Va bene Senti Non mi sento di dirti ancora che cos'è Ok? E non so neanche se c'è ancora Non mi interessa Basta che ce ne andiamo Dal tipo che ci spara Ok Tanto qua siamo coperti Penso sia In uno di quei palazzi là Facciamo così Io Vado là dentro Vado a cercare quella roba lì Torno subito Tu Cerca quello che vuoi Ciao Sì Vabbè Io non ho capito niente Comunque A sto punto io Vado da questa parte Che poi se c'è un camioncino Degli SWAT Qualcosa non torna Beh di sicuro non ci saranno più Gli SWAT a quest'ora dentro Sono passati 200 anni Però Quei brutti Cosi Che infessano le strade Wow In queste situazioni L'ospedale è il peggior posto Dove andare Io ci sto entrando Non so cosa deve cercare lui Ma so cosa devo cercare io Quindi sarà Meglio mettersi a esplorare tutto per bene